La Basilicata per il Ponte del 1 maggio diventa Patria del Motocross. I campioni del Super Mare Cross si sfideranno a colpi di tassello sulla spiaggia di Policoro e Sport Television trasmetterà in diretta Gara 2 MX2 e Gara 2 MX1 per poi accedere alla finale Super Campione. Super Mare Cross, venerdì 1 maggio, live in esclusiva dalle 16 e in streaming live su www.sporttelevision. Sport Television, il canale dove lo sport gioca in casa.